... Terza delle quattro batterie in programma, tra poco si conclude il dorso maschile e andiamo intanto a vedere insieme la classifica ufficiale con i finalisti junior, sono sei naturalmente Davide Casarini il più veloce in qualificazione 57-51, con lui si sono qualificati Nicola Smarcon, Luciano Mauro Malo, Paolo Fava, Eric Buoro Francesco Segat in sesta posizione con 1-0-1 e 41 ottiene l'ultimo posto in finale per la quarta ed ultima batteria Davide Barbonna, Idros in 1, Nicola Turrini, Nuoto Livorno in Corsia 2 in Corsia 3 è il campione primatista italiano del dorso, 18 titoli italiani assoluti per lui che recentemente con la staffetta mista azzurra 4 per 50 ha vinto il titolo europeo a Stettino Mirko Ditora, Fiamme Oro Roma Al suo fianco primatista italiano assoluto della farfalla